Per noi della WL è un motivo di grande piacere e orgoglio proseguire il rapporto di collaborazione con la Bilesi e i rendici per legno, un rapporto consolidato dal tempo, per il quarto anno consecutivo il nostro consorzio Pesaro Basket ha richiesto dalla sua presenza, segno di grande fiducia, di grande passione per il basket e di amicizia reciproca. Soprattutto in questo momento di pandemia legato al Covid è necessario trovare delle soluzioni come le finiture igienizzanti bilesi che possano dare sicurezza a tutti gli atleti che svolgono l'attività sportiva.